Sabato 3 giugno, ben ritrovati e ben ritrovate all'appuntamento col Tg Rassegna Stampa, il primo appuntamento della mattina con l'informazione di Teleradiopace. Iniziamo subito a vedere quello che è il meteo che ci attende, quello che è previsto che ci attenda in questo fine settimana. In generale sarà un meteo molto simile a quello degli ultimi giorni, con ancora un po' di instabilità, soprattutto nel pomeriggio e soprattutto nelle zone interne. Andando nel dettaglio e vedendo sabato 3 giugno sul sito di Limet, al mattino cielo quasi ovunque sereno con qualche nube, soprattutto nelle zone interne, ed è proprio nelle zone interne, soprattutto sull'appennino orientale e le Alpi Ligure, che nel pomeriggio potrebbe esserci qualche temporale. I fenomeni saranno in attenuazione in serata e lungo la costa è previsto che ci sarà solamente qualche nuvole, quindi non sono previste precipitazioni. Venti dovrebbero essere deboli e meridionali e il mare poco mosso. Le temperature saranno molto simili a quelle dei giorni scorsi, quindi parliamo sulla costa, di minime fino ai 15 gradi e massime fino ai 26 gradi, e all'interno minime dai 6 gradi e massime fino ai 25 gradi. Diamo uno sguardo anche alla giornata di domenica 4 giugno, in cui è atteso un quadro molto simile a quello di sabato, perché lungo le coste, cielo parzialmente nuvoloso ma asciutto, quindi lungo la costa non dovrebbe piovere, nelle zone interne invece è possibile che ci sia qualche rovescio, anche qualche temporale, sempre sull'appennino orientale e le Alpi Liguri. Anche in questo caso, anche domenica, la serata dovrebbe essere più tranquilla, quindi senza precipitazioni anche all'interno. Venti deboli meridionali o al massimo variabili, mare poco mosso e temperature stazionarie, che però potrebbero essere in lieve calo per quanto riguarda le massime, anche perché sono previste più nuvole, quindi ci sarà meno sole. Visto il meteo, adesso andiamo a sfogliare le prime pagine dei giornali di oggi, partiamo dal secolo XIX e si parla di piano nazionale di riprese d'esilienza e delle cosiddette scintille tra l'Italia e l'Unione Europea. Duxel che dice, corti dei conti, monitoreremo con attenzione, è il governo che risponde polemiche strumentali. Nella relazione di Banca Italia si registra l'aumento dell'occupazione, ma i nuovi posti sono destinati alle categorie pagate meno. All'interno del giornale poi si parla delle celebrazioni per il 2 giugno, la festa della Repubblica, Mattarella, lasciamo circolare i talenti, basta fuga dei cervelli e su questo tema sono state raccontate due storie poi all'interno del giornale, quelle di Eugenio e Arash, storie e successi Ligure di partenze e arrivi. Si parla di sanità e della ormai a cui siamo abituati, mancanza di operatori, infermieri indiani, 200 in Liguria, che danno aiuto per i turni, qui vediamo anche la foto, la RSA di Finale Ligure, con 7 addetti stranieri e la caposala italiana. La fotonotizia, Genova all'aeroporto svolta, Alfonso Lavarello sarà il nuovo presidente, Andrea Mentasti, che è l'ex numero 1 dell'aeroporto di Aero Alserio, sarà l'amministratore delegato. C'è anche una breve biografia del personaggio, Lavarello è il manager Globetrotter, amico di Fidel e re del business. All'interno del giornale si parla anche del Partito Democratico e delle difficoltà che sta avendo, soprattutto nell'ultima settimana, vediamo la settimana da incubo di Eilish Line e poi i tormenti dei Dam Liguri sul caso Armi. Andiamo a vedere il taglio alto, si parla soprattutto di Sport, Sampri di Appirlo Mister, Chiellini o Manna di S, l'agenda Radrizzani, tutti i nomi, e poi ciclismo, arrivo sprint a Genova, del Giro dell'Appennino in cui vince lo svizzero Irschi. Il turismo nel Levante riviera invasa dei turisti, pienone in hotel e spiagge. Andiamo subito a vedere anche la prima pagina di avvenire, in questo caso il titolo principale, Vacanze vietate, si parla dell'impennata dei prezzi che minaccia di rendere proibitive le ferie per le famiglie a basso reddito. Le chiamo dell'Unione Europea sul PNRR, il governo ribatte contro gli adeguati non alimentare polemiche. La fiammata dell'inflazione e la domanda turistica in forte crescita fanno lievitare i costi di viaggi e alloggi. Festa della Repubblica, Mattarelle Meloni, impegno per il paese, qui si parla appunto delle manifestazioni, e in questo caso la fotonotizia, dedicata all'allarme Casa Roma, 24.000 senza dimora, e le associazioni che chiedono, ora iscriveteli all'anagrafe. Si parla ancora di Ucraina, Putin teme il caos in Russia, pace l'esempio di Roncalli, altre azioni oltre il confine, e moriva 60 anni fa il papa della pace in Terris. All'interno del giornale, tra i temi, i mercati tutti lo vogliono, l'uranio va alle stelle, e poi emergenze, quattro impegni per la sostenibilità. Vediamo poi l'omicidio di Giulia, i maschi e l'orrore, disabilità a zuppi chiese stato per le persone fragili. L'intervista a Cavalli, il visitatore Meggiugodie, è un angolo di grazia. Sfogliamo all'interno delle pagine di avvenire, vediamo l'articolo che si riferisce proprio al titolo principale, vacanze proibitive per le famiglie, la combinazione tra l'impennata dell'inflazione e la domanda turistica in forte crescita ha fatto lievitare i prezzi dell'estate 2023. Per una settimana al mare in quattro, due adulti e due bambini, si stima una spesa di 5.600 euro. Per i voli gli aumenti sfiorano il 50%. Per appunto viaggi salati, la salita dei costi di biglietti aerei spingerà molti nuclei con figli a basso reddito a spostarsi in auto ed incarie anche per hotel e strutture ricettive, chi può sfrutto all'ospitalità in case di amici e parenti. Qui ci sono sempre delle stime, 835 euro l'aumento per una settimana al mare rispetto a un anno fa, 354 euro l'aumento per una settimana in montagna sul 2022 e 81% i viaggiatori italiani che sono disposti a cambiare periodo di ferie per risparmiare. Oltre la metà degli italiani, quindi il 52%, non ha ancora prenotato le ristrettezze dei bilanci familiari impongono soggiorni più brevi e soluzioni meno onerose. Per ridurre l'impatto del caro prezzo crescono le formule di stabilimenti per mezza giornata e le attrezzature da spiaggia in condivisione. Il fenomeno al business degli affetti brevi cresce e si allarga tra agenzie e corsi che promettono soldi facili. C'è una galassia di attività che ruota attorno al servizio dalle start-up digitali per la gestione delle case fino alle elezioni per formare host professionisti. Sempre a sorvenire, transizione energetica e conflitto hanno aperto la caccia all'uranio, la materia prima è diventata ricercatissima e sui mercati è partita la speculazione. Un numero crescente di paesi guarda ormai all'atum per diversificare le fonti e rispettare gli obiettivi ambientali. I prezzi del gas stanno calando, la fonte del nucleare resta ai massimi. Alcuni numeri, oggi si contano 438 a reattori in funzione e 58 in costruzione. La domanda del minerale ammonta a 62.000 tonnellate mentre la produzione è a quota 48.000. vediamo poi negli Stati Uniti un gruppo di senatori ha proposto un embargo sul metallo radioattivo proveniente dalla Russia, i prezzi possono risentirne, quindi potrebbe aumentare ancora. sempre sulle pagine di avvenire iscrivete all'anagrafe 24.000 senza dimora, 12 associazioni tra cui la Caritas scrivono al Comune di Roma chiedendo di essere coinvolte nella stesura della delibera per la residenza anagrafica di coloro che vivono per strada. La dimensione del disagio nel quadro delle città vediamo 96.197 persone istite all'anagrafe come senza dimora secondo l'ultimo censimento Istat e 463.294 persone nella popolazione particolare o difficile da raggiungere. Anche questo è dato Istat 2021. Altri numeri piuttosto significativi la strage invisibile 393 sono i morti nel 2022 è il report della Federazione Italiana Organismi per le persone senza dimora sui senza dimora morti nel 2022 ed è il bilancio più pesante degli ultimi tre anni. 393 quindi più di una persona al giorno nell'anno. Vediamo, parliamo di migrazioni Tunisia ritrovato il corpo di un bambino nave ONG disubbidisce e cambia porto ferme multa per due imbarcazioni la tedesca Mare Ego al porto di Lampedusa anziché Trapani con 37 migranti ennesimo orrore dal mare il piccolo vittima degli ultimi naufragi davanti alle coste di Sfax. Mediterraneo centrale i numeri della rotta 50.405 migranti giunti in Italia da inizio 2023 più del doppio rispetto a quelli di un anno fa e 1053 le persone morte in mare nel tentativo di raggiungere l'Europa nei primi quattro mesi del 2023 1053 Andiamo adesso a sfogliare il secolo XIX partiamo in questo caso dalle celebrazioni per il 2 giugno per la festa della Repubblica l'appello di Mattarella non costringiamo i ragazzi a fuggire per poter lavorare il capo dello Stato riafferma i principi di solidarietà e uguaglianza la Costituzione ci guida dice ricevuti al colle fragili anziani e disabili qui vediamo anche la foto con il Presidente della Repubblica con il Presidente della Campi il Presidente del Senato e il Presidente del Consiglio appunto alla parata militare la premia era la parata per il 2 giugno dei Patrioti chi l'avrebbe mai detto l'orgoglio del centro-destra nazione e sovranismo le parole d'ordine qui vediamo le due storie di cui appunto vedevamo anche in prima pagina nessuno investiva sui giovani all'estero mi hanno valorizzato parla Eugenio Zuccarelli genovese laureato in ingegneria vive e lavora negli Stati Uniti è tra i migliori 100 under 30 italiani secondo Forbes qui dice ci sono condizioni migliori poi anche sarei felicissimo di tornare nel mio paese soprattutto in Liguria ma so bene che al momento non è possibile e poi ci sono ancora molti problemi ma l'Italia ora la consiglia a tutti a parlare è Arash Ajoudani spero di aver pronunciato bene iraniano capo ricercatore all'IT di Genova dove ha messo su famiglia dice le occasioni ci sono in Nord Europa e in Francia non è tutto bello come si racconta forse sono fortunato ma da ciò che vedi in giro per l'Europa non c'è un gap di qualità di vita e lavoro così forte e parliamo del cosiddetto scontro di quello che i giornali definiscono scontro tra il governo italiano e l'Unione Europea sul PNRR Bruxelles dopo la stretta alla Corte dei Conti dice vigiliamo con grande attenzione qui si dice Bruxelles ma per l'altro sono appunto i portavoci della Commissione Europea e il governo invece risponde siamo in regola dalla Commissione sono polemiche strumentali e già nei giorni scorsi Fito che è il ministro che si occupa degli affari europei si era lamentato per le rigidità che tengono in ostaggio la terza rata appunto l'ira di Meloni contro la Commissione solo pregiudizie noi tiriamo dritto la premia dell'Unione Europea considerazioni che alimentano polemiche strumentali poi vediamo appunto sale il tasso di occupazione nuovi posti ma sottopagati in valore assoluto Banca Italia calcola che i stipendi siano calati dell'1,3% sulle famiglie più povere che aumentano la corsa dei prezzi pesa come immaginabile il doppio arriviamo alle pagine in cui si parla della crisi del Partito Democratico la cosiddetta crisi del Partito Democratico e in particolare del voto a Bruxelles sulla possibilità di usare i soldi del Partito di ripresa il piano nazionale di ripresa ed esilienza per finanziare la costruzione di armi in cui il Partito Democratico ha votato diviso e qui appunto si chiede ad alcuni parlamentari del Partito Liguri e vediamo appunto il contracolpo sui DEM Liguri adesso serve più chiarezza PNRR e armi e le reazioni nel partito già colpite dalle sconfitte dell'ultima tornata amministrativa poi bocciati gli emendamenti sull'Ucraina e allora non restava che votare contro parlare Sergio Cofferati ex segretario nazionale della CGL poi europarlamentare eletto in Liguria se il problema è il radicamento nei territori bisogna subito iniziare a metterci mano qui in questo caso si parla appunto delle sconfitte alle amministrative in Liguria mancano 800 infermieri in aumento gli indiani ma non basta Carmelo Cagliano che è presidente regionale dell'ordine professionale lancia all'allarme carenze d'organico qui trovate appunto tantissimi numeri e nonostante l'arrivo di infermieri che arrivano dall'estero non sono abbastanza perché non si riesce a fare fronte a questa carenza tra i motivi vediamo qui gli stipendi italiani sono inferiori di almeno il 25% rispetto alla media europea si parla di 1700 euro lo stipendio netto di un infermiere turnista al primo impiego e lo stipendio netto di un infermiere scusatemi invece diurnista quindi che lavora solamente di giorno 1550 euro vedete anche alcuni numeri sugli iscritti ai corsi di laurea poi vediamo appunto la storia degli infermieri indiani a Finalligure da Nuova Delia finale non contro la nazionalità serve solo la competenza alla RSA Ruffini i 7 addetti su 8 sono indiani vedete anche la foto adesso andiamo alle carenze di personale invece nel mondo della scuola a Bidelli impiegati ne mancano 800 dati della FILC CGL un buco di oltre 16% grave la cadenza dei segretari generali due scuole su 5 ricorrono a supplenti molti posti disponibili dopo i trasferimenti il sindacato le emissioni in ruolo coprono solo un terzo del fabbisogno in provincia di Genova mancano 38 dirigenti amministrative i dei 93 previsti maturità 400 commissioni per l'esame di Stato online l'elenco dei prof sono uscite le commissioni per gli esami di Stato poi vediamo anche a Genova c'è stata la cerimonia ovviamente della festa della Repubblica festa della Repubblica le medaglie deportati il prefetto si commuove per celebrare il 77 anniversario della fondazione qui vediamo le foto della consegna delle onoreficenze andiamo nella sezione economia e marittimo per parlare appunto della novità per l'aeroporto di Genova che avete visto nella fotonotizia in prima pagina aeroporto di Genova ecco Lavarello si chiama appunto Alfonso Lavarello che è l'imprenditore genovese che sarà il presidente dell'aeroporto qui poi abbiamo Andrea Mentasti che è stata appunto già la guida dell'aeroporto di Bergamo Ode al Serio e sarà direttore EAD dello Scalo e Paul Emilio Signorini che è presidente del porto di Genova l'ente che è il primo azionista appunto dell'aeroporto qua si racconta un po' della vita di Lavarello businessman amico di Fidel una vita in giro per il mondo ma con la lanterna nel cuore chi è il nuovo numero uno dello Scalo già partner dei reali del Kuwait il feeling con il leader cubano nacque grazie al business delle crociere andiamo adesso sulle pagine del Levante del secolo XIX e in apertura si parla tanto di turismo del ponte del 2 giugno si principalmente del ponte del 2 giugno che è iniziato gli scorsi giorni e che finirà questa domenica un altro ponte da tutto esaurito pronti a un'estate esplosiva riviera presa d'assalto da italiani e stranieri hotel pieno in ristorante senza posti liberi e folla in spiaggia qui anche alcune foto di ieri dalla riviera vediamo anche appunto i nuotatori e tantissima gente sul carugio di Sesti Levante che appunto non solo non solo mare perché in seggio via la cipolla l'impianto di attivato e apre le porte alla stagione a Santo Stefano Daveto passeggiata ad Ampicate gita in mountain bike in alcuni giorni in luglio e nei weekend agostani via al secondo tratto il secondo tratto appunto della seggiovia questi giorni sta svolgendo il festival della parola Chiavari ieri sera l'ospite principale era Piero Pelù Chiavari è stupenda Pelù regala al festival racconti e canzoni e un quesito per Pilon il cantautore toscano protagonista della seconda giornata della rassegna sul palco anche Gianluca Pagliuca che però non insieme a Piero Pelù ma in un evento precedente e oggi sarà la volta di Sabina Guzzanti qui appunto avete un articolo che vi racconta un pochino anche della giornata di Piero Pelù a Chiavari che secondo quanto importa il secolo ha detto Chiavari è una città stupenda non basta un giorno per viverla bisogna fermarsi più a lungo e poi anche della della serata e appunto diciamo del del suo spettacolo e anche di quello che appunto è il programma di oggi del Festival della Parola che ricordiamo proseguirà fino a domenica vediamo poi contest dedicato a Roberta realtà LGBT Plus di nuovo all'attacco qui si parla anche di altro sempre al Festival della Parola dove come sapete ci sono anche mostre e presentazioni e qui appunto si parla di questa iniziativa dell'associazione La Pulce nell'Orecchio ieri c'è stato anche un grave incidente nelle gallerie di Moneglia in cui è morta una donna schianti in galleria muore una donna un'auto passa col rosso e c'entra una moto la vittima è la passeggera a Stimona Solini 53 anni di masso ferito il compagno invece le persone che danno sulla macchina sono rimaste illese secondo quanto appunto riporta l'articolo Festa della Repubblica cerimonia di eventi culturali premi per un dirigente di Sestri e un vigile di Rapallo qui in questo articolo si fa un po' un riassunto di le varie cerimonie per la Festa della Repubblica che si sono svolte nel Levante Ligure si parla poi anche di pesca quote tonno e zero sussidi in ordine risolti della pesca il Presidente dei Professionisti Capelli che dice senza sgravi su gasoli e cise falliamo si cerca un'interlocuzione con il Governo per sollecitare sostegni a tutto il comparto contestata in particolare l'obbligo di installare telecamere per le barche sopra i 18 metri l'associazione è presente a Slow Fish per sensibilizzare sulle criticità del settore appunto in questi giorni a Genova si sta svolgendo una manifestazione Slow Fish in particolare dedicata non solo al pesce in sé ma ovviamente anche a tutto il settore lavorativo che ci sta intorno stadio vietato per due anni a un tifoso del Sesti Levante lo scorso 6 aprile a Gozzano giorno della promozione in Cil 25enne un 25enne appunto da Nei Gioi e Seggio Lini d'Albertas che è lo stadio di Gozzano e adesso per lui è arrivato un daspo di due anni sempre sulle pagine del Levante aiuti ai profughi ucraini intesa tra comune e frati fondi per sostenere le spese quotidiane percorsi per trovare un lavoro stabile sono 11 tra mamme e bambini cittadini fuggiti dalla guerra ospitati vediamo il comune di Reco ha sottoscritto un protocollo d'intesa con i frati del convento di San Francesco per il sostegno dei cittadini ucraini ancora ospitati in città fondi per spese quotidiani e percorsi di stabilizzazione lavorativa per favorire l'individuazione di alloggi indipendenti come detto sono 22 i profughi la metà dei quali i bambini che avevano trovato ospitalità nel convento recchese e 11 sono quelli che sono rimasti ancora a Reco a Sessi Levante Nardozorosso lo trie in piazza per i progetti di clown terapia oggi dalle 10 alle 22 anche per reclutare nuovi volontari dell'associazione VIP Camugi che sarà oggi in piazza Matteotti a Sessi Levante appunto dalle 10 alle 22 una curiosità poi in Moneglia piantata su uno scoglio una bandiera del Genoa all'iniziativa di un gruppo di tifosi vediamo ne parlavano dalla sera della partita con Lascoli non prima per Scaramanzia appena il mare ce lo permette andiamo a mettere la bandiera e appunto lo hanno fatto proseguiamo nel solco dello sport partiamo dalla Virtus Entella che dopo la sconfitta di mercoledì col Pescara è uscita dei playoff per dei playoff serie C quindi giocherà in serie C anche l'anno prossimo l'Entella è già predichettata nel futuro Merkai l'uomo chiave del mercato il Bomber 25 anni ha segnato 30 gol in due stagioni è sotto contratto ma non sarà facile trattenerlo l'attaccante è pronto a seguire la strada di Moreo e Diò dalla D al torneo cadeta appunto sono due due calciatori che grazie anche alla Virtus Entella sono riusciti in un certo senso a lanciare la propria carriera e passare dalla serie B fino alla serie B e giocare stabilmente in serie B organico della nuova C mancano ancora tre team e dopo i playoff ci saranno i controlli della Covizoc qui appunto si parla dei tre team che mancano che sono sostanzialmente quelli che non riusciranno a essere promossi attraverso i playoff quindi tre tra Pescara Foggia Cesena e Lecco che sono appunto le quattro semifinaliste poi si uniranno alla compagnia della serie C del prossimo anno in cui ci sarà anche il Brescia che ha perso i play out di B contro il Cosenza e naturalmente poi ci saranno le retrocesse dalla B che sono Spal e Perugia Pala nuoto questa sera alle 21 a Belgrado si gioca la finale di Champions League Recco il sindaco la città è nella storia ma di questo ne parleremo poi più ampiamente nelle pagine sportive regionali sempre il calcio si parla di Sampdoria DS allenatore tutti i nomi di Radrizzani il finanziere pensa Claudio Chiellini che è il frattempo di Giorgio Chiellini ma hanno Fusco per la panchina come in questo caso come DS e per la panchina invece in ballo Pirlo De Rossi e l'emergente Farioli il ruolo di Paratici nella trattativa per l'acquisto del club ma un suo coinvolgimento in prima persona è da escludere quindi si iniziano a fare un po' i primi nomi per questo nuovo corso della dirigenza della Sampdoria e l'unica cosa per adesso è che sicura che nei prossimi giorni ci sarà un appuntamento con l'attuale direttore sportivo Mattia Baldini che potrebbe anche restare come dice appunto il secolo XIX per quanto riguarda il calcio giocato domani a Napoli al Maradona ci sarà l'ultima a vedere campionato l'ultima almeno fino al prossimo anno per la Sampdoria in Serie A che giocherà contro il Napoli vincitore dello scudetto come sapete quindi domani al Maradona testa corta della Serie A il Napoli festeggia il titolo la Samp saluta intanto da Lizio Doriano abbiamo ricevuto un video messaggio di Audero porteremo allo stadio bambini e anziani vogliamo essere una tifoseria della famiglia il club nasce nel giorno della retrocessione proprio perché diciamo l'atto di fondazione per così dire è stato firmato lunedì scorso che è stato anche il giorno in cui è arrivata la notizia diciamo della possibilità concreta dell'acquisto della Sampdoria e quindi probabilmente di non finire in Serie D vediamo sempre uniamo la passione per la squadra e teniamo vivo il ricordo dei cari che fondarono il primo club e poi Ferrero minacciato di morte denuncia e chiede protezione l'ex proprietario della Sampdoria aveva chiesto di essere dimenticato ma ha ricevuto insulti sul suo telefonino e per strada a Roma Genoa e Siviglia coppia vincente dei 777 Vasco Erta e Red Star non sorridono risultati in altalena per le squadre della Galassia di Miami odono a fondo da 600 milioni all'Everton qui in questo articolo si fa un po' un quadro di come sono andate le squadre in cui o possedute in maggioranza o in cui ha una partecipazione la 777 che è appunto questa società che possiede il Genoa e appunto diciamo che le note più liete sono stata appunto il Siviglia che ha vinto l'Europa League di cui ha solo un 15% la società e naturalmente il Genoa che è stato promosso in Serie A e adesso si dice che probabilmente proveranno ad acquistare l'Everton e serviranno pare 600 milioni si parla della prossima stagione per il Genoa ritiro in Val di Fassa i primi sopralluoghi sono già migliaia le prenotazioni dei tifosi appunto per sostenere la squadra durante il ritiro previste tra amichevoli che dovrebbero essere il 15 18 22 luglio Mimmo Criscito dopo l'addio al calcio debuterà come allenatore al camp vediamo adesso come è andata al giro dell'Appennino e si parla Svizzero Irsi vince da favorito secondo Rodriguez il corridore della UAE Emirates recupera sullo spagnolo con una discesa perfetta dopo l'ultimo colle fa la sua volata in via 20 settembre pubblico numeroso e appassionato sulle strade della Liguria per l'edizione numero 84 della classica vedete appunto nella foto l'esultanza di Mark Irsi e vediamo il primo degli italiani Busatto giunto quarto Manchester vincitore l'anno scorso è arrivato solo 14esimo vediamo anche le parole del vincitore che dice giù dalla guardia tutta è stata dura e costa dell'US un altro nome di prestigio nel nostro albororo appunto il commento a questa vittoria ho fatto un piccolo errore nel lasciare andare Rodríguez all'inizio della salita poi mi sono mosso in prima persona e invece Rodríguez appunto il secondo classificato dice la gamba in salita era buona e sono partito ma ho pagato in pianura ci riproverò l'anno prossimo questi giorni come sapete sta giocando Roland Garros a Parigi vediamo Lorenzo e Lorenzo l'Italia è magnifica Fognini si spegne e spreca l'occasione qui come come spesso durante i torneri organizzami il tennis si fa soprattutto per quanto riguarda i primi turni un quadro di come stanno andando i tennis italiani e per adesso piuttosto bene vediamo Musetti lascia solo sette game a Norri Felice dice ho giocato bene Fabio quindi Fognini invece cede nel finale Hofner Sonego invece vince un emozionante maratona al quinto set con Rublev adesso affronterà Kascianov quindi uno scalpo di prestigio per Sonego che ha vinto contro Rublev vediamo facili successi per Djokovic e Sissi passò oggi in campo Cocciaretto con Pera vediamo poi il Drecco vuole la tripletta perché ricordiamo il Drecco ha già vinto Coppa Italia e Scudette quindi vuole vincere anche la Champions League sarà una battaglia fisica come detto questa sera alle 21 si gioca a Belgrado la finale di Champions League contro i padroni di casa del Novi Beograd che per come dire hanno questa ultima occasione di vincere la Champions League in casa perché questa è la terza e ultima finale che almeno per il momento sarà a Belgrado e le ultime due edizioni le ha vinte la Pro Reco e quindi in questo caso è l'ultima occasione per i padroni di casa di poter alzare la Coppa tra le cosiddette Muramiche vediamo stessa finale dello scorso anno loro sono rinforzati con Granados e Scompachis ma noi siamo un bel gruppo appunto le parole a Pro Reco quindi vedremo come andrà stasera alle 21 alla piscina scoperta appunto dell'impianto dell'11 aprile di Belgrado per chi volesse guardare l'enchiato si può guardare su len.eu che è appunto il sito che manda in onda la Champions League di Pallanuoto un cenno anche all'atletica quest'oggi perché ieri c'è stato il Golden Gala a Firenze non a Roma e da notare il fatto che c'è stato il record del mondo dei 1500 metri piani femminili è stato fatto da Kipiegon che è appunto la prima donna a scendere sotto i 3 minuti e 50 nei 1500 ha fatto 3 minuti e 49 e 11 con lo sport finiamo di sfogliare il secolo XIX e adesso diamo uno sguardo a quelli che sono gli appuntamenti in programma per la giornata di oggi gli appuntamenti in agenda per sabato 3 giugno in occasione della 19 giornata nazionale del Naso Rosso a Sesti Levante musica e intrattenimento con i volontari clown dell'associazione VIP Camugi dalle 10 alle 22 in piazza Matteotti la musica al femminile segno di pace ed evoluzione è il titolo del concerto e talk con ospite Cristina Nico cantautrice musicista genovese si esibirà al coro piccole donne cantano e le soliste della scuola della voce alle 11 all'auditorium San Francesco di Chiavari a Chiavari alle 17 nella sala presidenziale della società economica in programma la presentazione del libro La riviera in vetrina il golfo del Tigulio nei manifesti d'epoca il professore avvocato Daniele Granara presidente dell'associazione internazionale Amici del Monte di Portofino dialoga con lo scrittore giornalista Marco Del Pino presentazione del libro di Benedetto Mortola sotto un cielo che sa di sale alle 17 nei bagni Liguria di Sese Levante l'evento organizzato dall'associazione culturale Oleudo alle 17.30 Lavagna inizia il raduno Lavagna in musica con la sfilata per le vie del centro storico di tre bande musicali provenienti da Stoccarda Cairo Montenotte e Ponte dell'Olio Tu, un bene per me la sorpresa dell'accoglienza è il titolo dell'incontro con Massimo Bernardini Cesare Maria Cornaggia e Adriano Sansa che si terrà alle 18.30 all'auditorium San Francesco di Chiavari Nuovo appuntamento con Lavagna città che legge alle 18 in piazza Marconi Rosa Teruzzi sarà ospite della rassegna con il suo ultimo libro Il Valzer dei Traditori Luca Telese e Giuliano Guidabardi presentano rispettivamente i libri La scorta di Enrico Berlinguer e i suoi uomini Una storia di popolo e E a noi Ascesa, Caduta e Ribellione dei Borghesi lo faranno alle 18.30 nella piazzetta antistante la libreria Capurro di Recco al parco del flauto magico di Santa Margherita Ligure la compagnia Teatro Pesa Un Filo mette in scena lo spettacolo Capriciolò inizio ore 21 Diamo uno riguardo velocissimo alla situazione in autostrada comunque essendo un ponte magari molte persone si mettono in viaggio per adesso diciamo nelle tratte Ligure non sono segnalate code né rallentamenti né cose di particolare rilievo quindi per adesso presumibilmente si procede in maniera regolare diamo uno sguardo anche alla prima pagina di Ansa e tra diciamo le notizie principali della notte in India c'è stato uno scontro tra treni 288 le vittime accertate vigili del fuoco confermano anche centinaia di feriti nell'incidente avvenuto presso la stazione di Banaga nel distretto di Balasore nello stato orientale dell'Odisha 2000 soccorritori sul luogo diverse persone intrappolate sotto i vagoni la collisione con un convoglio merci con questa notizia si conclude questa edizione del Tg Rassegna Stampa ringrazio Mattia per se l'era in regia a voi auguro una buona mattinata e se volete continuare con l'informazione su Teleradio Pace alle 12.45 con la prima edizione del Tg Telepace di Tg di Tg Grazie a tutti.